Record, emozioni, passione. L'Inter del triplete si riunisce a Trento lo fa per ricordare un'impresa senza precedenti in Italia, la storia di una notte a Madrid che si è fatta leggenda. Venerdì 12 ottobre, alle 17,30, tanti protagonisti di quell'incredibile pagina Nerazzurra si ritroveranno presso l'Auditorium Santa Chiara, in via S.Croce 67 sul palco, a condurre la serata, Enrico Mentana, direttore del Tg La 7, e il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Elefante. Punto con loro, un parterre d'eccezione dall'ex presidente Massimo Moratti a Marco Tronchetti Provera, dall'amministratore delegato Nerazzurro Alessandro Antonello all'ex capitano a Bierzanetti. E tanto spazio a chi, quella notte, l'ha fatta sua per davvero Diego Milito, Diana Stankovic, Maicon, Christian Chivo, Marco Materazzi, Giulio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni. L'ingresso è totalmente gratuito previo ritiro del voucher questi ultimi saranno disponibili presso la biglietteria. L'ingressować dalla Chirica di Roma